Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui su Fortnite a fare qualche coppia con Raffaele, saluta ok ragazzi vediamo in partita, adesso vediamo di vincere, di fare qualche kill in più, 3-4 kill, e facciamo, dai 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 portino dai Raffaele dai, se non c'è nessuno prima lutiamo poi andiamo a pinnacoli, a morire però a morire con i guai... c'è gente qui, c'è gente, questo è proprio mio, tattico blu giuro, è proprio mio da me da me? io ho un'arma, vabbè non ha un'arma questa... buona? e da me? faccio i cighi? bomba tattico, bomba di nano blu, gg? da me? non lo trovo questa, sta sotto da me? vieni, vieni, vieni... vabbè, ci sei.. allora posso prendere pure io, sono sotto da me... eccoli ehm... ai Mary.... ai one shot, ai ohhi, umane, ai one shot... te ne ricevite! oh amami... dai i tanti, co ben... ma sei sì, tattico blu... ciss... godo... brava c'è sbagliato bella portino a curare la scelta era invigili ma anche me ha già trovato in bianchi a rubino levate chissà bene la razza niente stavolta gente ma non è una brava ci vediamo quando c'è gente vai sì la del vestito ma di stanno c'è studiato porto per far trovato buona bella ma ragazzo non è un attenzione dai ecco la cazzo non ragione una terra buona io vado un show bush a solito di te io sonda il tato a loro è un usur suo calcio dopo ci vado potrete di di quasi quasi morto no e lo sapeva è morto è quasi morto però un volto però di sé forti 15 a cd non vuoi la scala vado le armi spamma non spazio a ragazzo scioglione a riuscire a me no 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 19 19 ma non muoveva ma risciuto ai ragazzi video invece qualche video canale lasciate like e bella Grazie a tutti.